Tutti convocati. Come immagini il futuro della tua impresa? Quali tecnologie cambieranno il nostro lavoro? Sei pronto ad accettare la sfida? Sfida Italia 4.0 è la digital factory di Sei Consulting che accompagna le PMI nella trasformazione digitale. Un luogo dove fare training e sperimentare in prima persona le potenzialità dell'industria 4.0 in fabbrica e in ufficio. I corsi sono finanziabili con fondi interprofessionali e credito d'imposta. Sfida-italia.it Tesoro? Sì? Ti ricordi quella mini che ci piaceva tanto? Vuoi dire la nostra mini preferita? Esatto. La mini che sogniamo da quando è uscita? Proprio lei. Ma proprio quella mini? Sì, esattamente quella. Non me lo dire. L'hai comprata? No, non l'ho comprata. Ma... Sei contenta, eh? Da oggi con la formula Y-Buy puoi guidare la mini che desideri senza acquistarla. Scopri i vantaggi Y-Buy su tutta la gamma mini anche sabato 10 e domenica 11 febbraio nelle concessionarie mini su mini.it. I prodotti Coop compiono 70 anni. Festeggiamoli insieme. E da febbraio scopri la linea Dosa, ideale per cucinare facile. Perché la Coop sei tu. Conosci Aruba ID? No, cos'è? È lo speed di Aruba. Con Aruba ID crei la tua identità digitale e accedi online a servizi indispensabili come il registro delle imprese, l'agenzia delle entrate, pratiche di impresa, servizi IMS, servizi sanitari e scolastici, con una sola credenziale. Ah sì? E quanto costa? Con Aruba è gratuito per tutti. Privati, imprese, liberi professionisti e ditte individuali. E anche le credenziali di livello 3 sono gratis, le più sicure. Come hai detto che si chiama? Speed Aruba ID. Vai su pec.it. Fineco. La banca che semplifica la banca. Vi presenta Bors in diretta